Si prospetta almeno una settimana di chiusura per la provinciale 52 della Valle Strona interessata quest'oggi dal maltempo. Nel tratto che vedete fra la frazione Prelo e Canova in località Martinelli si sono risversati sulla sede stradale alberi e detriti che hanno portato alla chiusura dell'arteria provinciale. Il fronte è molto vasto, circa 200 metri e per questo è stato necessario un intervento lungo per consentire il disgaggio del materiale franato e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Al lavoro i tecnici provinciali unitamente alle squadre degli AIB e della protezione civile comunale. La viabilità nella valle è comunque garantita grazie al collegamento fra Germano e Loreglia che consente così che la Valle Strona non sia isolata. Problemi anche lungo la provinciale che porta a Massiola, anche in questo caso alberi e detriti si sono riversati sulla sede stradale comportando la chiusura della provinciale che potrebbe essere riaperta nella giornata di domani, martedì. Piante cadute anche nella frazione di San Bughetto, anche in questo caso operai provinciali e comunali al lavoro.